Se volete aggiungere un profilo orario per i lettori in ePassan Manager, iniziate facendo clic sul pulsante Profili utente e accesso. A questo punto, utilizzare le opzioni a discesa sul lato sinistro per selezionare Time Profile e poi Reader Time Profile. Cliccate su Aggiungi un profilo orario lettore e inserite il nome del nuovo profilo orario. Ora selezionate il periodo di tempo durante il quale il lettore ha un accesso protetto. Ovvero, l'utente deve strisciare una credenziale valida e inserire un PIN valido per entrare. Quindi, impostate il periodo di tempo durante il quale il lettore vieta qualsiasi accesso. Il periodo di tempo rimanente deve consentire l'accesso normale quando si utilizza una credenziale valida. Infine, fare clic su Salve. A questo punto, il nuovo profilo temporale dovrebbe apparire sul lato sinistro.